Buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Traffico regolare su strade e autostrade della nostra regione. Sulla Firenze Pisa Livorno, personale su strada tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze. Miniamo ai treni per un inconveniente a un treno di un'altra impresa ferroviaria, il regionale 4100 Roma Tiburtina Firenze Santa Maria Novella viaggia con 24 minuti di ritardo. E sempre per i treni, dalle 21 di oggi alle 21 di domani è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS italiane e italo. Sciopero che può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Veniamo alla tramvia di Firenze, Fortezza Libertà San Marco, da domani nuova ultima fase dei cantieri in viale Matteotti. Dalle 22 i lavori di costruzione della sede tramviaria che andrà a interessare la parte centrale del viale. I veicoli continueranno a transitare sul controviale e tornerà transitabile la corsia di marcia adiecente. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.